Asa Cars è un'azienda fornitrice di servizi di vendita e noleggio di autoveicoli e motoveicoli. Dal 10 aprile 2021 siamo attivi con la nostra terza sede in via Vittorio Veneto 22 a Cava dei Tirreni. E divampato nella giornata di ieri, giovedì 29 luglio, un incendio in località citola nel comune di Nocera Superiore. A far scattare l'allarme intorno alle 13 è stata la postazione avvistamenti incendi boschivi della protezione civile comunale di Cava dei Tirreni. Che ha notato una nube di fumo nero. Prontamente sono intervenuti sul luogo dell'incendio Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, SMA Campania e DOS Regionali. La protezione civile metelliana ha disposto l'immediato montaggio della vasca antincendio boschivi in località Breccelle per l'intervento aereo sul versante Cavese. Sul posto erano presenti due squadre antincendio boschivo, guidate da Felice Sorrentino per l'allestimento del sito, mezzi antincendio con autobotti e una terza guidata dal caposquadra Lucia Salsano per lo spegnimento a terra. Mentre decine di telefonate dei cittadini raggiungevano i numeri d'emergenza per il fumo acre che si è sprigionato nella zona, due squadre a terra da entrambi i versanti e mezzi aerei hanno combattuto le fiamme, che sono state domate in serata.